Quello in arrivo sarà un pomeriggio all'insegna delle manifestazioni in città, tre gli appuntamenti in programma. Al primo, a sostegno della pace, parteciperanno circa 1.500 persone. L'appuntamento sarà alle 14 in Piazza di Porta San Giovanni. Saranno possibili temporanee chiusure al traffico, deviazioni o limitazioni per nove linee del trasporto pubblico. Dalle 15 alle 18, manifestazione poi in Piazza della Repubblica, promossa dagli studenti iraniani in Italia contro il governo iraniano, prevista la partecipazione di circa 400 persone. L'ultimo appuntamento con la protesta sarà dalle 17 a Piazza dell'Esquilino. La manifestazione promossa dal Movimento per il diritto all'abitare sono attesi 300 partecipanti. Possibili rallentamenti per la viabilità della zona. Aggiornamenti su romamobilità.it